Siamo a Roma, siamo naturalmente in un evento molto importante, pochi minuti fa in piazza San Pietro Papa Francesco ha benedetto i tartufi che vediamo in questo momento L'Associazione Nazionale Tartufai sta organizzando il primo festival del tartufo italiano Qui siamo con il Presidente, Presidente come sta andando la situazione? Sono bene perché adesso stiamo dando da mangiare alla Mensa Caritas di via con le opio E siamo felici perché anche gli ultimi devono mangiare le periglie di piazza che non possono essere solo dei primi in questo mondo E quindi siamo qui alla Mensa Caritas a fare dei bei tagliolini al tartufo come primo piatto per tutti coloro che non possono permettere Vi saluto, siamo a lavoro, a lavoro Una grande soddisfazione oggi con il Papa direi E lo chef, Nicola, cosa ci racconti di questo piatto e di questi tartufi? È un piatto semplicissimo Olio, tagliolini, un po' di burro appena appena E tartufo nero fresco Che noi metteremo, adesso andremo a tagliare Vuoi i guanti? Sì, dammi i guanti Gli puoi prendere i guanti? Perché giustamente il tartufo va narrato in guanti bianchi E l'Associazione Nazionale Tartufai è veramente un gesto d'amore quello che state facendo E noi faremo per tutti i signori E guarda il pure Non importa Bellissimo Bene, io credo di dover ringraziare naturalmente l'Associazione Nazionale Tartufai Lo chef e tutti loro E un gesto d'amore che state facendo Complimenti Lanciamo il weekend di sabato e domenica Venite a trovarci 8 e 9 ottobre Via Pianova 1280 Saremo là con tante cose E siamo emozionati Fateci lavorare per chi oggi viene qua a mensa Bravissimi, bravissimi Complimenti, buon lavoro, onore al merito Grazie